Un documento importante è quello firmato stamani dal prefetto di Pescara Flavio Ferdani e la coordinatore del centro di ricerca OSIF dell'associazione bancaria italiana Marco Iaconis alla presenza delle massime autorità finalizzato a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto della criminalità ai danni delle banche e della clientela. Nonostante il conforto dei dati, negli ultimi 10 anni ad esempio le rapine in banca sono diminuite del 90%, resta fondamentale garantire un presidio di controllo e sicurezza, tutela in particolar modo dei consumatori, ponendo gli istituti bancari in una condizione di sentinella in simbiosi con le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. Abbiamo definito tutta una serie di misure di sicurezza, di comportamento, di scambi di informazioni con le forze di polizia, questo proprio per rendere lo sportello bancario sempre più sicuro. Il monitoraggio dei rischi è sempre più ampio, nel senso che siamo partiti dalla prevenzione del rischio rapina, oggi il protocollo guarda alla prevenzione degli attacchi agli ATM, delle truffe agli anziani, alle infiltrazioni criminali nelle attività legali, quindi proprio l'obiettivo è andare a coprire tutti i rischi che possono riguardare l'attività bancaria. È un protocollo che ha una finalità soprattutto preventiva ed è il frutto di un percorso che abbiamo avviato con le varie dipendenze bancarie, le forze dell'ordine, la magistratura, proprio per migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza e rafforzare la collaborazione contro gli atti predatori.